Questo video riguarda una perquisizione che è stata fatta in occasione dell'arresto di Messina Denaro Rosalia. In questa occasione noi abbiamo rinvenuto alle spalle di un mobile che era posto di fronte ad una botola, ad un pannello. Abbiamo rinvenuto questo vano, un vano che consentiva probabilmente di ospitare una persona. Ecco qua si vede un tubo che dovrebbe essere un tubo per poter respirare all'interno quando viene chiuso il pannello. Il suo nome di battaglia è Grigio, è un logotenente del crimore dei Carabinieri del Rosse, una struttura speciale che pedina, intercetta dalla caccia ai latitanti. Ci lavora da 30 anni, tanto quanto ci è voluto per prendere Matteo Messina Denaro. In questo video, che vi mostriamo in esclusiva, ecco il nascondiglio scoperto nella casa di Castelvetrano dove viveva la famiglia. Si pensa che venisse usato già dal padre, Francesco Messina Denaro, quando era ricercato. Era un nascondiglio temporaneo, sfruttato quando c'erano perquisizioni nella loro abitazione. Grigio per la prima volta ci parla anche del retroscena che risulterà determinante per la cattura del boss. Era il 6 dicembre scorso, durante la perquisizione a casa della sorella Rosalia, nella gamba cava di una sedia. Abbiamo rinvenuto dei foglietti di carta occultati, poi il lavoro successivo ci ha fatto capire che era effettivamente qualcosa di importante, che poteva cambiare tutto. Scoprono così che il boss è malato, è stato operato e che si fa chiamare Andrea Bonafede, con tanto di carta di identità fasulla. Lo arresteranno un mese e dieci giorni dopo. Si chiude in cerchio, si chiude un'epoca. Era importante che fosse catturato, perché anche le istituzioni dovevano dare questo segnale. Ma il lavoro dei carabinieri del Crimor non finisce qui, perché la mafia non è morta e c'è un dopo Messina Denaro da tenere sotto controllo. Il lavoro futuro sarà comunque andare alla ricerca di quella che sarà l'evoluzione del fenomeno mafioso, cioè capire cosa ci sarà dopo, perché sicuramente non possiamo abbassare la guardia. Questa non è la fine di tutto, è la vittoria di una battaglia importante, ma non si conclude tutto qua.